Con l'apertura alle 16 del portale per i nati nel 1968 e nel 1969, ovvero 53 e 52 anni, è quasi completo il percorso fissato dalla Regione per la prenotazione del vaccino anti-Covid per gli over 50. Questo sabato, quando le agende si attiveranno per i nati nel 1970 e 71, il quadro sarà chiuso e da lunedì, in ossequio alle indicazioni del generale e figliuolo, si potrà passare ai quarantenni. Le modalità di prenotazione saranno le stesse, quindi i 48 e i 49 potranno fissare il loro appuntamento già dal lunedì, dopodiché di giorno in giorno si passerà ai bieni successivi, ma non è l'unica novità nella campagna vaccinale toscana. Lunedì ci sarà anche la riunione di giunta che approverà un atto per partire con la vaccinazione dei soggetti fragili a partire da mercoledì. Intanto, grazie alle maggiori forniture di dosi, la macchina toscana sembra girare finalmente a pieni giri. La media giornaliera di somministrazioni nell'ultima settimana è vicino all'obiettivo fissato delle 30.000 dosi e nel fine settimana verranno inaugurati nuovi hub vaccinali in diverse città come Siena e Empoli. E proprio per non perdere il passo preso, dal governatore Eugenio Gianni arriva anche un appello clamoroso alle altre regioni. Se avete dosi del vaccino AstraZeneca che i vostri cittadini non vogliono, datele a noi, perché in Toscana c'è la fila per avere il vaccino. Grazie. Grazie.